Buongiorno a tutti, Christian Pulisic e Stefano Pioli mi sembrano i due argomenti di maggiore attualità oggi. Christian Pulisic sul piano della notizia vera e propria, Stefano Pioli ahimè sul piano della tendenza vera e propria. Partiamo da Chris Pulisic, così almeno abbiamo la possibilità di iniziare concilianti. Perché poi potrei infervorarmi un po'. Chris Pulisic ha giocato 120 minuti nella semifinale della Nations League della CONCACAF, la CONCACAF è la UEFA del Centro America contro la Giamaica, e poi è stato sostituito nel corso del secondo tempo della finalissima contro il Messico, nella quale ha fatto in occasione di uno dei due gol della sua nazionale, una giocata strepitosa sulla fascia, un dribbling scavetto che non si vede da tutte le parti e tutti i giorni a quella velocità prima poi del gol della sua nazionale. Chris Pulisic che alza un trofeo, l'ha alzato anche Junus Musa, Junus Musa che ha fatto bene nelle ultime uscite con il Milan, Chris Pulisic che ha chiuso i suoi impegni con le nazionali. Poi parleremo nel video successivo del senso che mi sembra un po' strampalato di questa sosta, però non parlo della Nations League degli Stati Uniti, perché come l'Europa ha la sua Nations League, è giusto che ce l'abbiano anche in Centro America, altro discorso è per la ritta pazzesca di amichevoli che hanno prodotto una serie di infortuni, ma ne parleremo dopo di questo. Allora, Chris Pulisic che finisce il lunedì gli impegni con le nazionali dopo 222 minuti di gioco nel giro di tre giorni, ha la possibilità di rientrare e noi avremo la possibilità di riabbracciarlo prima possibile, insomma, dovesse essere anche mercoledì a Milanello, tra mercoledì magari mercoledì refaticante, giovedì con la squadra sarebbe un buon risultato. Poi, ce lo siamo detti spesso, sensibilità dell'allenatore e dello staff decidere se a Firenze Pulisic di rientro comunque, da due partite ravvicinate, da due gare con un trofeo in palio e Chris era molto contento. Chris tornerà sicuramente di buon umore da questa vittoria, ma dopo un viaggio intercontinentale. Leggevo che la vendita di magliette, il merchandising attorno a Pulisic è al top, insomma, lui l'ho visto anche nelle interviste dopo la finale con il Messico. Se la godeva, probabilmente si sta godendo il momento migliore della sua carriera. Grande nel club, grande in nazionale. E ripeto, la giocata che fa è virale su tutti i social, su Twitter in particolare, è una di quelle giocate che, insomma, è giusto tenersi stretti. E quindi, bene, bene per noi, bene per il giocatore. Se ne parla un po' poco di Pulisic, un po' sottovalutato in Italia, ma, insomma, chiaro che giocando nel Milan, diciamo, non è nel posto adatto per prendersi complimenti a Raffica, no? E quindi, insomma, noi che sappiamo che vale tanto, ce lo teniamo stretto. Nei giorni scorsi abbiamo parlato anche di qualche tentativo di sminuirlo con qualche paragone azzardato, ma, insomma, acqua passata. I commenti vanno e vengono se li porta via il vento. Di tutti, ai miei compresi, evidentemente. Quindi non dategli troppo significato. E quindi ce lo teniamo stretto e lo aspettiamo al rientro. Penso spesso, sapete, a Pulisic e Loftus. Penso spesso a Pulisic e Loftus. Perché vengono spesso addebitati a Stefano Pioli, la qualunque, ma se l'anno scorso avevamo Orighi in stagione negativa, De Ketlar in stagione complicata e quest'anno abbiamo Loftus e Pulisic, fatemi voi la differenza, no? Fatemi voi la differenza. Cioè, alla fine, gli allenatori sono sempre centrali, sono sempre importanti, però accusare di incompetenze di ogni ignominia un allenatore, quando un anno ha un certo tipo di giocatori e un anno ne ha un altro, poi sta a lui fare il gruppo, trovare l'impianto di gioco, trovare il sistema giusto, ma alla fine, se ne hai due, piuttosto che altri due, in un certo periodo della loro carriera, in un certo momento della loro carriera, ti fa tutta la differenza del mondo. Parlo di Stefano Pioli perché leggo, stamattina leggevo un tweet meraviglioso, c'era la raffigurazione social di un fulmine, durante la tempesta nemmeno c'è il sereno di un fulmine, sta per scatenarsi la tempesta, alla fine di questa tempesta vedremo se Pioli rimarrà o no al Milan, la dico bene, nella dico edulcolata. Cioè, stiamo trasformando un finale di stagione, a me batte già il cuore a pensare al finale di stagione, la sosta è entrata nella seconda metà, quella che volge al termine. Abbiamo il finale di stagione in cui ci giochiamo, un secondo posto con la Juventus in campionato, è un'Europa League e il tarlo, l'ossessione. Il problema è avere ragione su Stefano Pioli e vedo che è diventato veramente un puntiglio da parte di molti. Da parte di molti che si sono innamorati del loro ruolo social, è diventato un puntiglio la campagna su Pioli. Gli devono mettere la testa su un vassoio d'argento, così si sono gratificati, così si sono nutriti di questa cosa. Io penso che quando il Milan ha dei traguardi da giocarsi contro il Milan, io ho sempre vissuto il tifo rossonero e il tifo milanista, così non so cosa sia cambiato in questa cosa. Su un allenatore che quando se ne andrà, vedremo quando, ti ha portato uno degli scudetti più belli della tua vita, se non il più bello, e ti ha riportato dopo 7-8 anni in Champions League con continuità. Quindi, per carità, ha perso il derby 5-1, che evidentemente è una ferita che sanguina. Ne persi uno anch'io, visto che adesso lo perdete voi, ne ho persi uno anch'io nel 1974 di derby 5-1. Certo che è stato doloroso, molto doloroso, però non è che ho continuato poi a puntare il dito contro chi c'era in panchina, anche perché c'erano in panchina dei giganti della nostra storia. Cioè, vorrei rimettere al centro il Milan, dice il secondo posto con la Juve chi se ne frega. No, no, conta, è un traguardo sportivo. Noi e la Juventus, due grandi tradizionali, stagioni di grande rivalità, io guardate nella stagione 2008-2009, arrivamo secondi a pari merito noi e la Juventus, però per una questione o di scontri diretti o di differenzaretti non ricordo, Juve seconda e Milan terzo. Mi brucia ancora e sono passati 15 anni, pensate come sono messo. È un traguardo sportivo, l'Europa League è un traguardo sportivo, ci sono due partite con la Roma. Cioè, questo accanimento su Pioli. Pioli, stagione negativa, ha perso cinque derby. Quattro di questi cinque derby intanto sono della stagione scorsa, non in questa. In questa ne abbiamo perso uno. Male, brutto, pessimo, ma uno. E quindi io onestamente, perché poi qui cambia tutto ragazzi, ditemi quali sono le regole di ingaggio. Perché si era deciso sul tribunale dei social, il tribunale degli opinionisti che ne dicono uno al minuto, che era decisivo all'Europa League. Adesso che sono stati superati due turni di Europa League hanno decisivo il derby. Io non so che cosa sia decisivo, se sia qualcosa di decisivo. Ma la testa di Milanello, dell'allenatore, della squadra, del Milan, della società, dei dirigenti e della proprietà è giocarsi gli obiettivi sportivi. Non decidere cos'è decisivo. Noi stiamo facendo l'errore che veniva fatto a Milano all'epoca della semifinale Champions League del 2003. Ve lo ricordate? Carlo Ancelotti si arrabbiò tantissimo, perché una semifinale derby milanese, Milan-Inter, era diventata un referendum su chi resta fra Ancelotti e Cooper. E Ancelotti si arrabbiò. Ma qui ci stiamo giocando una cosa importante, una cosa grande, ma perché dovete trasformarla in un referendum tra chi resta e chi va? La stessa cosa dico io oggi, se permettete, non sono Carlo Ancelotti, sono un infinitesimo rispetto a Carlo Ancelotti, sono un pulviscolo rispetto a Carlo Ancelotti, ma dico, ma abbiamo degli obiettivi sportivi da giocarci, perché dobbiamo trasformare due mesi importantissimi della stagione in un referendum sull'allenatore? Perché a chi giova? A più tardi.